Neanche la pioggia battente, i portatori delle candelore hanno sfidato ogni condizione meteorologica perché la tradizione, se è tale, non si interrompe mai. E così nel giorno del cereo degli orto flutticoli al mercato di piazza Carlo Alberto, quando gli ambulanti avevano ormai perso ogni speranza di vendere, avevano anche smontato i loro carrettini con la frutta e la verdura, in un angolo del mercato la festa si è animata. La banda ha dato il ritmo al passo di quella che tradizionalmente è chiamata la signorina per la sua andatura leggiadra e vagamente elegante. Come ricorda il più anziano dei portatori, Benedetto Mirabella. È detta la signorina, perché quando cammina scoletta tutta, scusate l'espressione, però è la signorina, si chiama la signorina. La devozione non si ferma neanche sotto la pioggia. Purtroppo quest'anno è successo così, sotto la pioggia, camminiamo sotto la pioggia. Siamo tutti bagnati, però per la nostra devozione camminiamo. La frutta è il motivo dominante nelle decorazioni del cereo, così anche i meno esperti o i turisti che seguono la processione sono in grado di sapere esattamente a quale categoria commerciale il cereo appartiene. Perché la festa di Sant'Agata è sì, una festa corale, ma le corporazioni con antico orgoglio amano sottolineare le singole appartenenze, forse credendo così di far salire più alta in cielo la voce di ciascuna categoria.